Ecco, ecco la cosa, abbiamo già sconfitti, diciamo, i primi, i primi, diciamo, assassini della banda del generale Mos, del generale dell'inferno o della morte. Siete sicuri? Oh mio Dio, ecco, 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 noi siamo gli unici bambini della banda, della banda del generale della morte. All'attacco! Ecco, un bambino ha fatto fuori, ecco, un altro l'ha fatto fuori, ecco, un altro l'ha fatto fuori, forza, fatemi sotto. Sponchi assassini! Ecco, abbiamo sconfitto anche il gruppo di bambini assassini della banda del generale dell'amore. Ecco, ecco, gli porto, diciamo, all'obiettorio. Ecco, ecco, ora, ecco, ora, ora, che, che facciamo? Che, 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 siamo, praticamente, in, nel tempo libero, eh? Lottate contro di noi, no, che siamo, che siamo qui per uscitervi, no? Oh, ecco, altri assassini della banda, forza, 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 fatevi sotto, via, compiacele! Ah, 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 ecco, ho fatto fuori uno. Ah, 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 come ti sei permesso a buttare giù le mie amiche? Mi sono permesso, ecco, no, non mi hai colpito, ah, questa volta sì, ah, ecco, fuori l'altro. Allora, che si fa sotto? E tu come ti sei permesso ad uscire il mio gemello? Mi sono permesso di come? Ah, ah, ecco, ho la limanete solamente per due, ah, ah, oh, ecco, ho la limanete solamente per due. Uujam, ha, e um, ah, ecco, ah, ecco, ah, tanki siamo campi sonati non per due, ah, ecco, ecco, ah, ecco. Eh, mettete bene, essa è solamente questo, non ti 2002! cupola, ecco, 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 quindi abbiamo sconfitto da, ecco, quindi abbiamo sconfitto a letto lì, assassini della vantadella e l'ala della morte, forza che se la faremo, forza, sì, forza, 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 sì, basta che se la, basta che non si allendiamo, e tutto passello liscio, beh, basta che non si allendiamo, sì, invece sì che vi allendete, Oh, ecco, ho letto lì, ho letto lì, assassini della banda del generale della morte, voi già finite, ecco, fuori uno, fuori due, fuori tre. Ah, come ti sei permesso a buttarle giù le mie amiche, mi sono permesso, mi sono permesso perché, per vendicare quello che hai, quello che hai fatto, quello che hai fatto. Ah, ah, ecco, è fuori qua, ecco, amiche, ho sconfitto anche questi, questi, questi assassini qua, della banda del generale della morte, ecco, li portano l'obitorio. Ecco, ecco, mi sono tornati, li ho portati all'obitorio, ok? Li ho sconfitti, sconfitti. Ah, 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 uh, è così qua! Oh, questa volta sono in tanti, sono in ben sette sono, sette più di noi, eh sì, questa volta sono due, la situazione, ah, ecco, fuori uno, ah, fuori due, ah, fuori tre, forza, fatemi sotto, ecco, fuori quattro, ah, ecco, fuori cinque, ah, 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 ecco, fuori sei, ah, la tocca a te, forza, vieni qua, via, ah, ah, ecco, fuori sei, ecco, uscissano che, ecco, ah, uscissano sconfittano altri assassini della bandana, ecco, li portano la vita, io le, ecco, 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 lì, ecco, 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 là, vediamo se vengono altri nemici. No, non vengono, ecco, quindi, anche oggi se l'abbiamo fatta, però mi sa che domani sarà ancora più dulla di oggi. Forza, però, che se la facciamo, se la faremo sempre, sappilo, gene, sappilo, male, sappilo. Fino a episodio.